Ciao, sono l'avvocato Francesco Cacciola, fondatore di Debitobancario.it In questo video voglio rispondere a una domanda Ma il recupero crediti telefonico ti può minacciare? Che cosa succede quando hai dei finanziamenti e non riesci a pagare? Già nel momento in cui non paghi la prima rata, vieni contattato dal recupero crediti La stragrande maggioranza dei recuperi crediti magari lavora correttamente quindi rispettando il codice deontologico stabilito dall'Unirec oppure non violando la privacy dei tuoi dati ma molti invece queste cose magari non le conoscono nemmeno Per questo motivo che cosa fanno? Ti chiamano insistentemente in primis ti richiedono delle somme molto più alte rispetto alla rata perché devono appunto guadagnare la loro percentuale su quella rata e in più ti invitano in tutti i modi possibili e immaginabili leciti e illeciti a pagare la somma dovuta Molto spesso che cosa fanno al fine di poterti far pagare? Chiamano, se tu non dovessi rispondere al telefono, altre persone magari possono chiamare tua moglie anche se non è garante possono chiamare tua mamma, dei parenti, vicini addirittura ultimamente per un nostro cliente hanno chiamato il bar che si trova di fronte dove lui lavora per portargli un messaggio Ovviamente stiamo ora sentando veramente la follia soprattutto in questo periodo dove a causa della situazione economica particolare generata dalla pandemia effettivamente tantissima gente non sta riuscendo più a pagare e non riuscendo a pagare direttamente alla finanziaria poi difficilmente riesce a pagare il recupero crediti anche perché ci si rende conto che se io non pago regolarmente una rata da 100 euro e dopo mi vengono richiesti i 130 ma io effettivamente mi trovo nella condizione di stare o in cassa integrazione o il rischio di perdere il lavoro che cosa cambierà se io pago quella rata? sposterò soltanto il problema il mese prossimo e magari se ho soltanto un debito questa cosa qui si può anche fare ma se ne ho 10, se ne ho 6 se l'importo totale dei debiti arriva al mio stipendio in che modo posso fare? Un nostro cliente ci ha detto che un recupero crediti l'aveva contattato e nonostante la dimostrazione di aver perso il lavoro questo recupero crediti voleva in tutti i modi farsi pagare la rata cercando di minacciare che avrebbero fatto delle azioni esecutive ma se uno non ha niente da perdere quindi se non ho la casa intestata se non ho macchina e purtroppo non mi trovo ad avere nemmeno il lavoro che azioni esecutive mi devono fare? possono minacciarti di contattare se non paghi chiunque oppure di farti venire l'ufficiale giudiziare a casa effettivamente è nel loro potere oppure che cosa possono fare? allora in primis non possono minacciarti anche perché starebbero compiendo dei reati nel momento in cui ti vanno a minacciare questo comportamento potrebbe essere identificato soprattutto in società di recupero crediti telefonico le quali praticamente ti chiamano con numeri anonimi oppure magari non intestate e cercano di metterti paura perché è l'unica arma che possono utilizzare per farti pagare ma assolutamente non possono farlo quindi nel caso in cui dovessero commettere dei reati e utilizzare nei termini poco consoni che cosa puoi fare tu? allora la cosa più importante è identificarlo quindi prendere nome, cognome, codice fiscale e la società per cui lavorano molto spesso non vogliono dartela a quel punto che cosa si può fare? anche andare a individuare di chi è quel numero di telefono e provvedere successivamente a segnalare sia alla società finanziaria sia alla società finanziaria con cui hai il debito andati a segnalare sia anche all'Unirec oppure al garante della privacy ti porta un'esperienza di un caso di un nostro cliente lui non è riuscito più a pagare una nota finanziaria a un certo punto in serato viene contattato da un numero di telefono che si spacciò per un avvocato allora ci chiamò immediatamente perché disse potete parlare direttamente con il mio avvocato e quando ci diede sia il numero di telefono che il nome di quest'avvocato facciamo una ricerca immediata e verificammo che questo numero di telefono corrispondeva ad un'altra persona di Palermo quindi non a un avvocato o uno studio legale e che non esisteva un avvocato a Palermo con quel nome al che questo cliente richiamò e questa persona disse di non essere più avvocato ma la segretaria dello studio legale il giorno dopo non esisteva nessuno studio legale nemmeno nessuna segretaria a questo punto ha fatto delle contestazioni direttamente alla finanziaria noi abbiamo scritto sia all'Unirec che al garante della privacy e si è aperto un'indagine in merito a questa divulgazione diciamo dei dati poco consona cioè in violazione della legge che ovviamente porterà eventualmente a delle sanzioni anche per questo comportamento nel momento in cui viene identificato che sicuramente andare a segnalare diventa essenziale per interrompere questo circolo vizioso queste pratiche scorrette perché non ci si può spacciare per avvocati non si può minacciare la gente non si può fornire le informazioni ad altre persone cioè non posso contattare il bar per andargli a dire che devo parlare con questa determinata persona sono cose assolutamente folli queste qui e molto spesso tutto è concentrato dalla prima alla quarta quinta rata in cui non pavi successivamente poi vengono date magari le pratiche ad altri recuperi credito che tendenzialmente non sempre cercano di avere una maggiore istruzione nei loro agenti però è capitato spesso in altri video ne abbiamo parlato di persone che addirittura mettevano sotto al portone attaccato sul portone una comunicazione del recupero crediti che poteva essere presa da chiunque ovviamente anche questo è in violazione della privacy quindi è essenziale anche nella gestione del recupero crediti in questo momento se hai difficoltà nel pagamento delle rate di finanziamento della tua situazione essere seguito da esperti del settore perché anche sapere affrontare l'aggressività del recupero crediti in questo momento è diventato sicuramente più complesso è necessario sapere che cosa possono fare e che cosa non possono fare e soprattutto intervenire per stroncare dei comportamenti illegali noi abbiamo pubblicato tantissimi video addirittura anche un libro su come affrontare il recupero crediti che ti invito a leggere o anche i video a vederli tranquillamente su youtube se però ti trovi in una situazione di sovrindebitamento che hai tanti debiti e quindi non riesci a pagarli è necessario farsi assistere da avvocati esperti per risolvere il tuo problema avendo fatto dei debiti la nostra filosofia è che dovrai pagarli però se ti trovi in difficoltà e non riesci dobbiamo rinegoziare il tutto fare in modo che ci siano delle rate per te sostenibili e quindi avrai la possibilità tranquillamente di pagare la finanziaria in maniera congrua o altrimenti attraverso dei saldi e stralci per questo motivo ti do la possibilità di richiederci una consulenza gratuita dal link qui in basso www.debitobancario.it slash contatti ti risponderemo quanto prima se non l'hai fatto ancora ti invito ad iscriverti al canale youtube di debito bancario a cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sull'uscita dei nuovi video per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao